Natale e la crisi, un connubio sempre più solido al quale ogni amministrazione cerca di rispondere come può per regalare ai propri cittadini e ai turisti un'atmosfera coinvolgente che in qualche modo aiuti ad allontanarsi per qualche ora o qualche giorno dai problemi quotidiani. Così sulla nostra isola, nonostante i numerosi problemi finanziari che coinvolgono un po' tutti i comuni, si sono profusi sforzi per organizzare eventi e addobbare le strade. È così che Ischia, Casamicciola, Forio, Barano sia riuscita a organizzare calendari di eventi di tutto rispetto e ad illuminare le strade principali. Questo non è successo all'Acquameno. Il Comune è commissariato da tempo e i problemi economici che sono stati alla base della caduta del sindaco Carmene Monti sono noti a tutti, buchi in bilancio ereditati dalla precedente amministrazione che in qualche modo si cercava di appianare con provvedimenti che però hanno provocato l'ira del centrodestra che ha fatto mancare il proprio sostegno al primo cittadino. Una situazione disastrosa e a farne le spese, come sempre, i cittadini. E così per i capricci che forse nascondono interessi ben più grandi di qualche politico l'Acquameno si trova ad essere un Comune in una situazione economica talmente difficile che il commissario non se l'è sentita di spendere nemmeno qualche euro per i consueti addobbi natalizi per non parlare poi di un calendario di eventi. E allora sono stati i commercianti ad organizzarsi, a mettere mano alle proprie tasche in questo periodo tra l'altro piuttosto vuote e a cercare di creare un clima che in qualche modo ricordi che anche all'Acquameno è Natale. Sicuramente un'iniziativa da lodare ma quello che sconvolge è che mentre nei Comuni in cui il Natale è stato organizzato non mancano le polemiche di commercianti, albergatori, cittadini che non risparmiano critiche sulle diverse iniziative o sulle tipologie di illuminazione scelta. All'Acquameno, dove il Comune non ha fatto nulla e i commercianti pagano una malagessio politica e amministrativa che va avanti da anni e sotto gli occhi di tutti nessuno ha qualcosa da dire contro i propri amministratori. O meglio, nessuno ha il coraggio di dire qualcosa davanti a un microfono. Un clima di paura e di intimidazione quindi in cui nessuno ha il coraggio di mettersi contro chi detiene il potere perché avrebbe anche la forza di vendicarsi di qualche parola detta fuori posto fosse anche solo sulle luminarie natalizie. E allora il fatto che il Comune non abbia organizzato nulla per questo Natale passa decisamente in secondo piano. Quello di cui tutti dovremmo preoccuparci è che all'Acquameno, oggi, i cittadini non si sentono liberi di muovere critiche a viso aperto a chi li governa o li ha governati e a cui, tra qualche mese, dovranno dare il proprio voto. A questo punto, chissà quanto liberamente. Un'omertà che rievoca comportamenti e atteggiamenti che tutti, o quasi, vorremmo lontani dalla nostra isola.